Benvenuti su Medicina e Informazione Web TV. Nella lotta al cancro, gli ultimi anni hanno visto diventare sempre più protagonista l'immunoterapia, uno strumento terapeutico innovativo e prezioso che potenzia il sistema immunitario e lo aiuta ad aggredire e distruggere le cellule neoplastiche. Numerose sono le neoplasie che beneficiano di strategie terapeutiche che prevedono l'utilizzo dell'immunoterapia, da sola o in combinazione con altre classi di farmaci. E da oggi è disponibile in Italia la prima immunoterapia approvata dall'AIFA per il carcinoma dell'endometrio. Si tratta di Dostarlimab, frutto della ricerca GSK. Parliamo di queste importante novità con i nostri ospiti ed inizio con la professoressa Colombo, a cui chiediamo un identikit del carcinoma dell'endometrio. Il carcinoma dell'endometrio è l'unica neoplasia ginecologica per la quale stiamo assistendo ad un aumento dell'incidenza negli ultimi anni, soprattutto nei paesi cosiddetti sviluppati. Perché? Perché i fattori di rischio per questa neoplasia sono proprio legati al benessere, cioè obesità, ipertensione, diabete, dieta squilibrata e quindi vediamo che per questa neoplasia purtroppo c'è un aumento di incidenza. Questa non è una buona notizia, però d'altra parte diciamo che questa è una neoplasia che dà abbastanza precocemente segno di sé attraverso un sanguinamento anomalo tipicamente in menopausa e quindi viene in genere diagnosticato allo stadio iniziale, è curato con la chirurgia. Tuttavia ci sono alcuni di questi tumori che si presentano allo stadio più avanzato oppure che presentano una recidiva dopo una iniziale remissione. Ora conosciamo meglio Dostarlimab, caratteristiche del farmaco, quindi meccanismo d'azione. Cosa dicono gli studi? Quale prospettive si aprono per le pazienti e per quali donne è indicato? Le opzioni terapeutiche in questo caso non sono molte. Di fatto utilizziamo la chemioterapia con carboplatino e ipaclitaxel da moltissimi anni, ma se questo schema fallisce purtroppo non abbiamo di fatto delle opzioni terapeutiche valide. In questo contesto si inserisce proprio il farmaco Dostarlimab, recentemente approvato per il trattamento del carcinoma dell'endometrio, perché ha dimostrato di essere estremamente efficace, soprattutto in un particolare sottogruppo di carcinomi dell'endometrio, cioè quelli che presentano la cosiddetta instabilità dei microsatelliti o deficit del mismatch repair, che è un deficit di un meccanismo del riparo del DNA. Ora, in questo tipo di tumori Dostarlimab è in grado di avere un'efficacia decisamente superiore alle chemioterapie standard e il meccanismo d'azione di questo farmaco ovviamente è molto diverso da quello di una chemio, in quanto si tratta di un cosiddetto immunoterapico, cioè è uno di quei farmaci che toglie il blocco che il nostro sistema immunitario ha nei confronti dei tumori, cioè il tumore è in grado di bloccare il nostro sistema immunitario, ora il farmaco toglie questo freno, toglie il blocco, ecco che il sistema immunitario viene riattivato e agisce nei confronti della neoplasia. I dati su Dostarlimab sono veramente eccezionali e molto promettenti perché non soltanto abbiamo un alto tasso di risposta, molto più alto rispetto a quello che osserviamo con le chemioterapie di seconda linea, ma soprattutto queste risposte sono molto durature. Questo ovviamente a mio giudizio è l'aspetto più significativo di questo farmaco perché vuol dire che queste pazienti potranno avere una remissione per un periodo estremamente prolungato e un beneficio quindi nel tempo che fino ad ora non avevamo mai ottenuto con nessun altro farmaco. Il valore per le pazienti di un'innovazione terapeutica che amplia lo scenario di cura è facilmente comprensibile. Ascoltiamo da Licoletta Cerana, presidente Acto, l'importanza di poter contare su percorsi di cura sempre più efficaci e mirati. Oggi nel campo dei tumori ginecologici, un territorio in cui la nostra associazione è presente da più di dieci anni, stiamo vivendo una svolta epocale. Dopo i grandi successi della medicina personalizzata nella cura del tumore ovarico, oggi noi accogliamo con straordinario entusiasmo il nuovo farmaco da immunoterapia destinato a dare molte speranze a tutte le donne colpite da tumore dell'endometrio e con il quale stanno convivendo in fase avanzata. Questo farmaco non è soltanto straordinario per il discorso di cura, ma è straordinario perché, come ben sapete, quando una donna si ammala in famiglia l'effetto è devastante e quindi curando la malattia questo farmaco cura l'intera famiglia. E quindi oggi finalmente al tumore dell'endometrio stato avanzato si può guardare sicuramente con molta meno paura. Dostarlimab, come dicevamo, è frutto della ricerca GSK ed è importante che la ricerca biomedica sia focalizzata sul mettere a punto molecole in grado di migliorare la prognosi, ma anche la qualità di vita delle pazienti. Ce ne parla la dottoressa Rosati. GSK ha rinnovato un grandissimo impegno in ambito oncogilecologico al fianco delle pazienti con tumore ovarico, con tumore dell'endometrico e anche con tumore della mammella. E questo perché l'impegno dell'azienda è portare innovazione, ovviamente salute e speranza di vita per tutte queste donne. In particolar modo l'azienda ha investito tantissimo in termini di ricerca e sviluppo per tutto quello che riguarda il tumore dell'endometrio che fino a pochi anni fa era una malattia sostanzialmente orfana di innovazioni, orfana di farmaci. Oggi con Dostarlimab abbiamo un farmaco che dà la possibilità a queste donne non solo di avere una speranza di vita, ma soprattutto di poter godere di una vita con un'altissima qualità, perché il farmaco in termini di eventi avversi, quindi di tossicità per la paziente, ha un ottimo profilo. Io ringrazio le nostre ospite per aver condiviso con noi questo importante avanzamento nella cura del tumore dell'endometrio. Ringrazio anche voi per essere rimasti in nostra compagnia e arrivederci qui su Medicina Informazione Web TV.